Ha fatto tappa a Perugia il corso base di Corver Coaching di primo livello, riservato a tutti i tecnici ed istruttori che vogliono accrescere e migliorare le proprie competenze. Unica tappa italiana, l'evento dal titolo La piramide dello sviluppo delle abilità tecniche del calciatore è stato organizzato dalla Corver Coaching Italia in collaborazione con il Perugia Calcio attraverso il tramite del direttore generale della società biancorossa Mauro Lucarini, promotore di questa metodologia di allenamento nel progetto della C. Perugia Academy. Presenza d'eccessione in conferenza stampa per Mr. Alfred Galustian, cofondatore e direttore internazionale del network Corver Coaching ed il direttore generale Lucarini non ha certamente nascosto l'emozione per la presenza di questa personalità qui a Perugia. Per noi è una cosa importantissima quella che siamo riusciti oggi ad avere qua nella nostra città e soprattutto per quanto riguarda la società della C. Perugia Calcio. Avere il professore è stato uno dei tanti sogni che abbiamo avuto e volevamo avere in questo percorso del settore giovanile del Perugia Calcio. Ci siamo riusciti, quindi siamo contentissimi. Credo che questo deve essere solo un primo tassello di quello che dovrà essere il nostro lavoro in futuro. Direttore, un successo importante è portare una personalità del genere a Perugia, ha una soddisfazione sia per lei, per tutta l'Academy, ma anche proprio per il Perugia Calcio. Sì, effettivamente è una soddisfazione grandissima. Non a caso ci siamo un po' emozionati di tutti perché avere il professor Galustian con noi è una cosa meravigliosa. Penso che questi due giorni che faremo qua a Perugia saranno per noi importantissimi e soprattutto dedicheremo tutto quello che impareremo in questa full immersion ai nostri ragazzi. Quindi ci teniamo tantissimo, siamo felici e sono molto contento che c'è stato interesse da parte di tutti, con tante domande e tante curiosità che sono state svelate dallo stesso professore. Il progetto che ci ha presentato ci presenta un modello ideale di calcio. Possiamo quindi parlare di un calcio giusto attraverso questo progetto? Di un altro calcio? Sì, io scherzosamente dico ai miei istruttori della scuola calcio che il calcio deve essere una del football, quindi un altro calcio. Dico che qui sicuramente abbiamo delle cose positive e riusciamo ad ottenere insegnamenti importanti per il bambino con il rapporto palla. Adesso dire che il cover possa essere il metodo ideale non lo possiamo dire, ma di certo il cover dà tante indicazioni e soprattutto soluzioni ai nostri ragazzi. Una due giorni intensiva in cui si scoprirà la valenza di questo progetto. Si tratta infatti di un programma di insegnamento calcistico ispirato agli insegnamenti di Will Korver e fondato nel 1984 da Galustian e Cook. È un metodo di insegnamento delle abilità calcistiche per giocatori dai 5 ai 16 anni basato sul miglioramento delle capacità individuali e sullo sviluppo del gioco di squadra con l'obiettivo di sviluppare giocatori abili, creativi e sicuri rendendo il calcio uno sport divertente da allenare e praticare, ma con l'attenzione sempre viva di insegnare il rispetto per gli altri e la sportività, sviluppando una mentalità vincente. Un progetto che ha attraversato l'Europa ed il mondo, arrivando fino a Perugia. Collaborazioni per Mr. Galustian con la Francia, il Giappone, la Spagna, l'Arsenal ed il Bayern Monaco. Mr. era un progetto che ha avuto successo in tutto il mondo, adesso arriva anche a Perugia. C'è qualche giocatore che le viene in mente, che ha proprio massimizzato e ottimizzato gli insegnamenti del Korver Coaching? Mi dice che quando hanno iniziato ha collaborato con l'AC Milan e in quel settore giovanile sono cresciuti dei giocatori attraverso il Korver. La difficoltà e il problema è che il Korver è abbastanza nuovo in Italia, ha soltanto sei anni di vita, per cui mentre nel resto del mondo i risultati già si vede in modo anche eclatante, in Italia probabilmente noi avremo bisogno di sviluppare ulteriormente il programma Korver per poter avere più giocatori con quelle caratteristiche, con quel tipo di miglioramento. Possiamo parlare però di programma giusto per il mondo del calcio come modello ideale? Mi dice sicuramente per lui il metodo Korver è eccezionale, soprattutto nella fase dello sviluppo tra i 6 e i 12 anni e in questo momento nel mondo ci sono 42 paesi che utilizzano e hanno utilizzato la metodologia con risultati anche eccellenti, per cui perché no? Tutto questo è il Korver Coaching, un programma che si pone il dubbio della scelta tra crescere e vincere. Nessuno mette in dubbio che vincere è importante, ma crescere e sviluppare è ancora più difficile da vincente. Un nuovo stile per un calcio diverso, per Another Football, per Umbria Radio Paolo Tardio.